come lei giocato persona 5 sono bravo in giapponese o in inglese è un giapponese io preferisco inglese io no io no preferisco comunque la lingua di dove è stato prodotto la preferisco lady mary vediamo seguiamo as signorita meri sama chiamala cosa stai? ooooh zaz zaaai ooooh ha 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 se omaetach mo watas no gebok mi stangeru wu ora 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 sasato yatsura o torai nasai ooooh ma si combattono così? ma la macchina just married eeeh 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 Non lo so quante ore sono, sono bravo, ma lo giocherò anche questo off-live, eh? Lo porto così, saltuariamente. Cioè, lo porto tutti i giorni, ma lo gioco anche off. No, no, la storia la facciamo insieme, la storia la facciamo insieme, cerco di far farming off, bro. Così non appesantisco troppo, dai. E' incazzosa la Lady Mary, è incazzosa, decisamente incazzosa, ragazzi. Oh, siamo calmi, eh? Pokémon in coming, tenetevi pronti. Oh, ok. Ok, 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 ok. Ma in junior in chapter, ma in junior... Oh, perché ce lo ammazza così? No, no, regala! L'ha corrotto al suo servizio! No, scannolica! Maledetta strunza che non sei altro! No, brutto gesto! No, mamma torta un amico mio! Eh, sconfiggio tutti i nemici tranne Skull, giustamente, Ryushu ha lasciato il culo, porco il demonio. Ok, il problema è che fa danni, regà, fa veramente danni, Skull. E dobbiamo stare attenti agli attacchi di scale. Stando dire una copertura registrarai automaticamente gli attacchi, subendo danni ridotti. Anche le unità nemiche possono usare le coperture, perciò usa gli attacchi mischia e le abilità che infliggono alterazioni di stato per spezzare la loro resistenza. Va bene, cose che sappiamo bene. Allora, io indietreggio un attimo. Il problema è che se vado... Sì. Perché sei tutti con Morgana, ovviamente. Potrò raccomando a nulla, richiamando il menu di pauta con E, in questo modo, tornare all'inizio del tuo turno precedente. Perché Morgana non esce? Non, 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 non. Indietro. Indietro, par. dai l'ho fatto itiltà ragazzi guardate quanto regano un posto prende pure scale però va bene così guadaglia c'è chi è che mi dica da ma d'accordo l'uori che si gode vada che c'è nata c'è no mi sa dove l'ha né Eh, però ci permette anche di rifare il livello, giusto? Il bacio d'amore, maledetta infame! Perchè il Ziofla ha il bot? Che t'ha fatto, mo? Ok, si tratta! Allora, fuori! Vabbè, però siete credini, regà, vi siete fatti sparare in faccia. No, vabbè. Ci abbiamo tutti conto. Sì, il bot è ridotto. È ridicolo, no, no, sull'autocensura è ridicolo veramente, credo. Ma non capisco, ma poi me le genera di nuovo. Io ogni live le cancello a fine live, le cancello questa blacklist di parole che si crea e si genera da solo, e ogni live se le rigenera, io non capisco. O lo devo togliere l'automoderazione, e ce pensiamo noi. Non riesco proprio a capirlo, guarda. Raga, ha preso tutti, tutti. Sì, infatti lo levo, lo levo, lo levo. Lo so rotto pure io perché le cancello parole che non stanno ne in cielo ne in terra, quindi dai, lo leviamo e via. Sì, sì, pure quello è vero, Plaza, d'accordo. Ma che problemi hai? Ha rotto, cominciamo a insultare pure noi. Ahia, la vedo male. Ahia, la vedo male. Ma mi sono auto-moderato solo perché, bro? I ladri fantasma sono giocati in questo modo tutti, tranne Giocaa e Morgana. Ahia, la vedo male. Sì, non è vero, non è vero. Sotto è un po' di sopita? Sotto è in seguito e non si tratta di una faccia. Non lo garantire... Sotto è un po' di sopita. Ma lo so, Zio, ti ho detto... ... con una faccia. Ma non lo so, Zio. Prendi iniziative di intelligenza artificiale. Ma non lo so, Zio. Sei un po' incazzata ragazzi Ma giusto un po' Esatto Sicuramente è per quello Hai capito? Autoritaria la Mary Attenzione Attenzione animazione Godiamocela Jorka... Sì, vieni! Non è vero, non è vero? Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. What? Una bomba, ragazzi, chi è? Eh, quanto vale, bro? Erina. Bello, Simo! Benvenuto, brother! Il suo giorno vivoso, benvenuto in Locarno. Che è Erina? Bro, non me la ricordo, ma c'era... Non c'era in Persona 5, non me sto a scordare. Nuovo, vero? Eh, cazzo, me ne è venuto un dubbio. E' lei, quindi qualcuno l'aspettava, qualcuno la conosce, Tarina. Tipo una leggenda metropolitana. La persona che gioca non è nella sua forma originale, anche perché... Eh, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Hai ragione, hai fatto bene a ricordarmi questo dettaglio, io non me lo ricordavo. Allora, campione, ieri laureato, il nostro Simo 10, campione del primo Elite Tribute Cup nel Elite Team Racing. Benvenuto, campione in Locarno, benvenuto. Come stai, campione? Come è andata la prima notte da campione dell'Elite Tribute Cup? Prezza, ti faccio fare una ritata ora, spara, spara. Statemi a sentire, giovane uomo e faccia da bici gatto. Hai con noi? No, chiamami gatto, effettivamente. Non ho capito cosa sei. Beh, io sono poco lucido adesso, non posso abbandonare i miei amici. Allora, aggiornamento di CT, tempo nella Delicica... Nooo, ma come? Ma non c'è credo. Ma brutto gesto, ma nooo. Il risultato ha migliorato di quasi un decimo fino a un'ora fa. 32esimo al mondo. Vabbè, va. Vabbè, va. Vabbè, va. Conosci un VIP in Locanda. GG, brother. GG. Grande, Cimo. Ti piace, Toro Bra? Pure a me, pure a me. Bello, 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 bello. Molto accattivante. E Persona 5, proprio... Traspira Persona 5 da tutti i pori. Bellissimo. Almeno di natura. Scalzi. Scalzi. Dobbiamo trovare un piano. Un attimo, fa a mente locale, rielaborare un piano per andare a salva tutti, ragazzi. Raggiungi il bersaglio con tutta la squadra. Elena si unisce dal gruppo, ok. Dobbiamo arrivare là per la fuga, raga. Vabbè, si combatte, raga. Vai, andiamo. In battaglia analizza le unità premendo LT. Così facendo visualizzerai i raggi di movimento e d'attacco di ogni unità. L'analisi è fondamentale per abbronare strategie efficaci in battaglia. Molto figa sta cosa, ragazzi. Seleziona il membro della squadra attivo con LB e RB, anche se hai già spostato un'unità alleata sul campo di battaglia. Puoi tornare a quella unità per continuare a usarla. Se oltre al movimento non ha ancora effettuato alcuna azione. Ok, quindi posso muovermi quanto volte mi piace. Allora, proviamo a vedere un attimo... Eh, però io mi devo avvicinare. Eh, qua c'è da studiare, ragazzi. Qua c'è da studiare tutto il discorso tattico. Raggiò attacchi a distanza. Partigiana, amnesia, raggio di movimento. Chi è questo Pokémon? L, chi è in chat? Mirko, mi hanno chiamato per cena vado. Buon proseguimento a te e tutta la locanda. Ciao ragazzi. Ciao Mirko, un abbraccio grande a tutti e resto nel canale. Grazie, chiaretta, del supporto. Buona cena anche a te. E dai, ci vediamo dopo se ci sei, se no poi ci sentiamo con calma. Ciao, chiaretta, buona cena. Allora, ragazzi, io mi piazzo... Sinceramente mi piazzo qua. Questa cosa qua. Questa cosa qua. Questa cosa qua. Mi ha scampato, è che è un'altra cosa. No, non è un'altra cosa. E' un'altra cosa. Non è un'altra cosa. Io mi piazzo. più l'intelligenza artificiale decisamente pessima giro gioco e l'inizio non c'era il città il città il città e chi matti matta ma o di che città Sì Sì, 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 sì. Sì è un'altra parte e non è più ok vado a fare una mazza e infatti io ho già messo questi qua un po' troppo scoperto ok vado a fare un'altra parte 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 vero vado a fare un'altra parte Mezza copertura Ce la facciamo battare? Ma si dai Si Intelligenza di vita è un po' così Attendo con Ansel Premio Sia calmo signor Simon Sia calmo Che cosa è? Non è危険 Ah ok Ci abbiamo dietro I amici ragazzi Benissimo Ho fatto benissimo E' 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 Sì la l'animità È un uomo È un uomo Grazie a un uomo È un uomo Il giusto È un uomo ragazzi io faccio un saluto a tutti ciao Giulietta Sipio Ah non ci sarà C'è C'è Sì! Sì! Il giusto! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! È un giusto! cazzo me sono scollato pure Morgana ma basta che ci arrivo ma non ci posso vedere di uno scudo devo far termina turno qua dietro dai siamo arrivati ma non ci posso fare Ciao!